La Colorwebe arriva a Pavia per la prima volta, di cosa si tratta esattamente? La Colorwebe è una corsa fantastica, è la prima edizione che arriva a Pavia e si tratta di una corsa di 5 km, non competitiva, dove ad ogni km tutti i partecipanti vengono colorati di un colore differente. Dove e come nasce questo tipo di corsa coloratissima? È un'iniziativa che prende spunto dall'OliFest indiana, quindi la loro festa religiosa, in cui una volta all'anno c'è questo uso di colori e cibi addirittura, quindi frutta e verdura e una festa di lancio di questi colori. In America è stato abbinato questo format alla corsa ed ecco che è nata la Colorwebe in America, dove si organizzano più di 200 eventi l'anno, quindi ormai una realtà affermata e piano piano questa iniziativa è stata estesa all'Europa. Questo sarà il terzo anno che portiamo questo evento in Italia e per la prima volta siamo quest'anno a Pavia, con punto di riferimento il Pallaravizza, dove allestiremo il villaggio, la partenza, il palco con intrattenimento e la festa finale che poi concluderà l'evento dopo la corsa con questo lancio di colori collettivo. Al Pallaravizza ci troveremo già dalle 10, dove il 22 di maggio tutti i partecipanti già iscritti si potranno ritirare il kit compreso nell'iscrizione che prevede soprattutto la maglia bianca che coloreremo durante il percorso, lo zainetto, tatuaggi, gadget e omaggi degli sponsor. Dalle 10 quindi si potrà iniziare già il ritiro kit, ci si potrà ancora iscrivere perché poi la partenza sarà alle 3 e mezza. Dalle ore 13-13.30 inizieranno le attività di intrattenimento con zumba, balle di gruppo, giochi per bambini, per arrivare insomma piano piano alla partenza delle 15.30. Si partirà scaglionati a gruppi di 200-300 persone per non creare ingorghi nei punti colore, quindi poter permettere a tutti di divertirsi nel migliore dei modi. All'arrivo poi ci sarà questo party finale, più o meno tra le 16 e le 16.30 inizierà, con il lancio di colori collettivo. Ad ogni partecipante infatti daremo una bustina di colore aggiuntiva, quando arriveranno al traguardo, e coordinati dal nostro team di animazione ci sarà questo lancio collettivo che è un po' il color blast finale in cui appunto si celebrerà la festa, insomma una giornata un po' diversa e un po' più colorata del solito.